Per il documentario E' un po' difficile Vedete quell'uomo che sta provando a fare le trazioni? Ecco, esattamente un anno fa Si ruppe il femore Che tempo vero male ruppe? Oh c'è i singhiali Emo che mi finisce la batterina Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi, precisamente oggi è passato un anno Da quando un uomo davanti a me Il donatone Si è rotto il femore Dopo vi racconteremo la storia Adesso stiamo andando nella zona dove E' avvenuto il fattaccio Uh, freeride tra le vigne Eccolo Bene ragazzi Quello è il drop Questo è l'albero E' questo è l'albero Guarda che... Eccolo, la vedo lì la trastella E' questa, è questa E' qua, no Ha fatto così Allora, mi tolgo i guanti Affiggiamo, affiggiamo Ciao la... Qui è morto il donatone Non mettono di là Mario salta Guarda il cartello sui capote No, mettilo così C'è la regola Dove si guarda Chi va Hai fatto... Hanno fatto il video di quando sei caduto No, no Eravamo in tre Uno che non c'è neanche oggi Arriva il bro Ma almeno qua Il drop è dritto Oppure ti spinge da una parte No, è dritto Il problema è stato Donna che ha curvato Il dono è storto Scusate, è storto E ha curvato Qui già ce ne fai amare del dono Venite anche voi ai trail di Novaglio Scusate I local mi hanno corretto A baciare l'albero Vai vai Ok, ce l'ho Ce l'ho E' lì Vediamo qualcuno che... Beh, dai Non c'è andato il tuo bro Isashi E' lì E' lì Ma buon Natale Questo metti una biglia Adesso vi narro un po' quello che è successo esattamente un anno fa Ovvero il 29 dicembre 2021 Dove la Donna Facendo questa pisa downhill E' finito Su un albero Dopo aver saltato da quel trampolino E niente Ci ha rotto il femore E' stato lì due ore Fino a quando lo venissero a portare su Perché E' venuta l'ambulanza Ma l'ambulanza non l'ha mica preso Dopo sono venuti i pompieri Che non l'hanno preso Dopo il soccorso alfino che l'ha preso Questa dopo un passo avventura E' finito sul giornale di Verona C'è una rega Qui per forza parte garezza Non arrivo ultimo Si riprende Vona 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ciao ragazzi questo video è finito dal femore di Dona è tutto spero che vi sia piaciuto e niente noi ci vediamo settimana prossima il giovedì o la domenica con un nuovo video Ciao 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 Ciao